ciao ragazzuoli da 6080 attacco su pure farming 2018 nello scorso gameplay avevamo diciamo venduto scusate c'era ancora segnalibro la e si segnalibro segna appunto l'idea che aspetta la scorsa prima abbiamo venduto le uova raccolto l'uva siamo ovviamente tornati qui in italia no in montana abbiamo costato le uova vendute le uova consegnate al bar per diciamo fare le colazioni in america perché sapete che in america le colazioni le fanno con le uova e quindi abbiamo costruito 20 cartoni 30 li abbiamo venduti per 500 e qualcosa vabbè dai quello che era e adesso questo che dobbiamo fare qua questo gameplay costruiamo una stalla per le mucche acquistiamo 5 ma che riempiamo la stalla di concime ma come di concime la stalla non si riempie si svuota forse avrà sbagliato ragazzi noi lo vediamo subito vabbè prima cosa acquistiamo la stalla e vediamo cosa succede ok dobbiamo acquista 25 ancora prestito devo fare la rega è che scatole o negozio funzionalità negozio mappa statistiche no economia ma che scatole però è un carichetto a caspita rinera richiesta bancaria ragazzi dobbiamo contratto un prestito no 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 meno 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 servono giusto o 5 mila 12 rate contratta bassi alle si poi le mucche quanto mi costano però e dai e ma sapete acquista avanti ragazzi abbiamo la stalla oh che bella l'ha costruita bellissima acquistiamo 5 mucche adesso spero che vitelli mucche mucche vecchie ha solo 200 ok 1 2 3 4 5 eccoci qua ci sono i vitelli vedete ragazzi si loro stanno lì però va bene faranno l'ate che vi dico leggiamoci cosa dice allora sta le mucche come già saprai il prossimo passo è quello di avere qualche vitello per la stalla proprio come nell'avevamento dei mali tagli più piccola devi prima acquistarli vabbè dovrei però dedicare molto più tempo ai vitelli perché diventano i mali adulti che producono prezioso latte e letame avere che mi sta chiamando già qua il vitello che c'è vitellino se bu e adesso dare da mangiare alle mucche ora che ai svariati di vitelli deve sicurato che stiano ben nutriti i vitelli necessitano di mangime già pronta della miscela che tu se sarai tu a preparare no per ottenere no la miscela da solo usando no però puoi ottenere il mangime da un bancale che troverai accanto ogni stalla preparerai la miscela da solo utilizzando l'insilata la paglia ricavate dalla sfaccia di ogni campo vabbè dai se desideri produrre del mangime seguendo questo metodo consiglio di rifarti l'enciclopatia sul tablet bla 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 no 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 riempi la stalla col concime ma no col concime col mangiare a eccolo qua posso prenderlo al foraggio eccolo dove leggo qua dammi tutto quello che puoi 10 11 12 13 20 dai 20 sono livello 3 ragazzi l'ho riempita però vai al stabilimento di biogas e andiamo allo stabilimento di biogas però aggancia il caricatore attaccare l'accessorio che caspita foraggio acquistato pagato a equa livello come faccio vedere le muche statistiche serre campi allevamento animali dov'è qua conteggio dove le mucche pollaio pollaio foraggio cento per cento uova pronte per la raccolta gabbie per conigli porcile produzione 100 ma maiali pronti per la raccolta ragazzi non ho maiali io quantità 6 stalla delle mucche solo maiali non ho mai presi mai mai io non ho fatto off camera roba copriamo tantissimo foraggio invece ma si diamoci la pazza gioia acquista ma quanto sta a foraggio 30 per cento appena a rega 70 80 via via così acquistiamo ancora non basta no 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 che facciamo allora è va bene dai loro sono già posto no diamo il cento per cento di foraggio qua acquista tassetta ancora no mannaggia o acquista al cento per cento perfetto la bene ragazzuoli questa roba qua che caspiterina è a latte qua c'è il latte ragazzi allora facciamo così andiamo caspiterina e sta roba qua cos'è sto sta roba qui poi leggiamoci l'email e vediamo cosa vuole allora ciclo di vita della mucca allora devono passare sei giorni prima che vitelli crescano abbastanza da considerare produttivi dagli da mangiare ogni giorno dopo essere cresciuto per 25 giorni comunque che ci saranno produrre latte fino al cinquantesimo giorno dove moriranno puoi vendere latte presso qualsiasi casificio e usare le metà per fertilizzare il terreno alternativo puoi venderlo a nostro maniamento di biogas lungo tutto il loro periodo di crescita poi ricerci di portare il mare al matatoio a venderli il guadagno dipenderà dallo stadio di crescita bla 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 se vuoi prendo dimestichezza contatti di rivelmente coltivazione leggi contenzione è dedicato dell'enciclopedia ma noi non leggiamo ragazzi noi agiamo allora agiamo dobbiamo andare allo stabilimento di biogas però vabbè ci andrò prima in macchina e poi così no perché aggancia il caricatore dobbiamo andarci in trattore usiamo il trattore nuovo ragazzi questo bestione qua si doveva finire vero di scaricare altrimenti però caspita ragazzi boi off camera mi farò un sacco di missioni perché non c'ho non c'ho niente io aggancia ok lui se ne va da solo andiamo allo stabilimento di biogas con questo nostro mega trattorone e vediamo che dobbiamo fare quale patate non so mica se sono pronte nessuno dice niente mi sa che dobbiamo andare tipo di qua spero che si guadagni bene con un giafiro dammi qua dammi qua vai via vai via dammelo qua voglio guadagnare big money 200 mila euro ragazzi dopo ci copriamo il camion e possiamo caricare tutto il così faccio peperoni uova bombazza si è di qua il biogas perfetto io taglio per i campi ragazzi è bello qua possiamo comprare tutto un domani nel futuro prossimo 339 1500 euro e marone quando mai comprerò questi campi è che caspita ok siamo arrivati allo stabilimento di biogas spero che mi dice anche così ok abbiamo ricevuto un'e-mail due e-mail ce le leggiamo bla 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 è raggiunto lo stabilimento di gas che potrei vendere l'etame ottenuto se ritieni necessario vengono ottenere fonte di entrate bene per trasportare l'etame se scrivere un rumocchio sip ma combo vabbè grazie agganciare l'unità di caricamento collegare caricatore collegare accessorio sono certo che puoi far sì va bene andiamo agganciarci caricatore dov'è no ma e se sapevo io che era la sapevo ragazzi ma io switcho trattore ma che caspita me ne frego questo per adesso lo lascio lì questo qua è in fattoria esatto vedete massimo risultato col minimo sforze l'avevo visto caricatore era dietro di qua eccolo qua a c'è viene fuori il coso rosso adesso quello che devo fare ok però non so cosa devo fare dopo cioè non c'è niente da da spostare aggancio unità principale si dai buongiorno manovrare caricatore lb più rs appena verso l'alto e basso ok quando manovra caricatore lo visuale sarà bloccata si ok ok ma lasciamo pronti i ragazzi colleghiamo questo perché avete come su farmi stessi comandi e però sono invertiti mannaggia lui aggancio accessorio e ma che devo fa due mail manovra l'accessore caricatore si carica l'età messo si no ma però è dobbiamo comprare ancora tra roba come dicevo si può poi trasportare con un rimorchio immagino che una ship ma 1600 combo caspita ragazzi quanti soldi che mi fa spendere allora negozio di veicoli rimorchi ship ma combo mannaggia 23.000 caspita ragazzi no 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 questo qua 1600 mi ha detto andiamo sull'email allora email 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 ship ma 1600 nr 1600 combo compriamo quello dunque ship ma negozio ship ma 1600 combo ok rimorchi ship ma 1600 combo eccolo qua informazioni bla 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 rimorchi cosponda bla 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 è in fondo è sufficiente dobbiamo fare un altro prestito di 15.000 mannaggia ragazzi mi stanno richiesta bancaria è che caspita prestito 2 prestito 2 prestito 2 prestito 2 è contratta un altro dai 15 12 facciamo vetirate così è più bassa ok perfetto compriamocelo subito prima che mi mangiano tutti i soldi allora dove dove caspita ieri è qua negozio no negozio di veicoli rimorchi ship ma 1600 combo il livello il tuo a me l'hai detto tu e ship ma nr 1600 combo porcaccio la quella cavolacciola ship ma sr 1600 asr adesso scommetto che c'è il tuo a me l'hai detto come si facciamo il livello il tuo a me l'hai detto c'è la cisterna gaucho ship ma ns ma non c'è ma caspita rina ragazzi ragazzi mi sembra tipo impossibile Allora, email, Parcaccia, Sipma NR1600 Combo, allora, forse non è qua altro, Sipma, Sipma, no, Upkill, Sipma NR, no, Metal Tech, Metal Tech, ragazzi, trasporti? No, qua sono solo camion e macchine, coltura, no, Mietitrebbio, no, rimorchi, Sipma, però, NR non esiste, ragazzi, guardate bene, c'è il Metal Tech che è questo qui, Metal Tech è questo qui, Sipma, NONS, Sipma, WA, WA, CC, Gaucho, Sipma, NR, non esiste, non esiste, oh, vi faccio rivedere l'email, oh, dov'è? Sipma, NR, non esiste, Sipma, NR, non esiste, andiamo su altro di no, Sipma, NR, NON, VS, NR, non esiste, ragazzi, quindi diciamo che, vabbè, siamo bloccati qua, Io adesso sgancio, come caspita, lì, non si farà, sgancio accessorio, non posso sganciare, no, ok, allora, sganciamo l'accessorio, e sganciamo, sì, ah, sì, vi faccio vedere come si fa il piano dal tablet, negozio di veicoli, bla bla bla, e dov'è qua? Eh, negozio, acquista carburante, dec, hopla, fatto il pieno, ragazzi, eh, niente, eh, caspiterina si fa, devo sganciare il caricatore, io qua, come caspita si fa? Allora, lascia il veicolo, no, sgancio l'unità principale, oh, là, ah, che bello, proprio se ne va per il fattaccio, Bene, ragazzuoli, allora, penso che io mi fanno, allora, anzi, l'ho aspettato una cosa, prima di tutto, negozio, richiesta banca, saldiamo qualcosa, estinguo il prestito, salda, cosa posso fare? Questa? Questa, 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 questa? Ok, abbiamo stinto un prestito, perfetto, eh, allora, qua ci siamo, facciamo anche un durato di questo, altrimenti mi immagnano fuori tutto, eh, io farò adesso dei lavori off the camera, per salire su di, un po' più di, XP, eccetera, eccetera, eh, quindi, ragazzuoli, possiamo fermarci qua, io, come sempre, eh, vi invito a mettere mi piace, se questo video vi è piaciuto, se questa serie vi sta piacendo, ed iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo nel prossimo video, c'è ragazzuoli, sono 3, bye bye!